E porca miseria, la sciorta Alessandra, vediamo con il grande 4 come si comporta Evita accuratamente di prendere un birillo Prego, prego Eccolo col suo fisioterapista personale Chiamato a scuola dallo stregone Perché ha un tascapane pieno di peyote Generoso, è il momento di tirare fuori il peyote E di darlo a questo bravo giovane Poco da fare Niente Se vogliamo che Se deve performare Mica ce ne stanno tanti Vediamo Vuole l'onore della ripresa Al solo nominare il peyote hai fatto strike Capiamoci Capiamoci Va bene, cinema realtà Bene 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 Tu vuoi vedere se fai il doppio Per fargli fare il doppio bisogna nominare Peyote Ai 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 Troppo ardore giovanile Poi c'abbiamo la ferina che non so come sta giocando Stai giocando Vero Proseguiamo Grazie 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 Questa indagine forense No ma non c'è Questa Si sta Grazie Grazie addirittura chiude il 10 maronna mia il peyote è ancora poco va a fare pure sei diventato un acquerellista dell'ottocento una pennellata dopo l'altra ti difendi ci hai fatto per delega è tirato ma benissimo fresco come un rosone una prova di un po' più lunga esatto questi vedi oh E' chiaro mio, eh! E voilà! Quella che si chiama una retroazione, una retroazione! Grazie a tutti!